Gli incontri sono rivolti alle donne che hanno ricevuto una diagnosi di tumore al seno e che fanno parte dell'associazione Noi Come Prima. Considerata la rilevanza e l'interesse degli argomenti a trattati, si è pensato di aprire gli stessi anche ai cittadini che ne fossero interessati. Le promotrici di questo progetto insieme a me sono la dottoressa Maria Luisa Lisi dietista e la dottoressa Marika Bertuccioli psicologa e psicoterapeuta. Nel primo incontro la dottoressa Marika Bertuccioli che collabora con l'associazione già dal lontano 2009 ci parlerà delle interazioni e relazioni che intercorrono tra il cibo che noi mangiamo, il nostro cervello e le nostre emozioni. Seguirà poi l'intervento mio e della dottoressa Lisi in cui parleremo di che cosa si intende per un'alimentazione sana ed equilibrata. Nel secondo incontro invece impareremo a leggere le etichette alimentari, etichette che devono essere riportate per legge sugli alimenti. Questo perché sapere qual è la composizione del cibo che noi portiamo a tavola e del cibo che noi mangiamo ci permette di fare delle scelte consapevoli e di non essere ingannati dai claim pubblicitari che spesso troviamo sulle confezioni. Nel terzo ed ultimo incontro ma molto importante ci focalizzeremo invece sullo stile di vita. Quindi cercheremo di fare capire che cosa si intende per corretta attività fisica e l'attività fisica insieme ad una sana ed equilibrata alimentazione sono i capisaldi dell'invecchiare e del vivere in salute.